Bagno di folla per l'edizione 2018 di Via Romani in Festa, giunta quest'anno alla sua decima edizione, come ogni anno la strada si è trasformata per l'occasione in una felice isola pedonale, lasciando spazi allo shopping e al divertimento. I negozi che sostengono la festa e partecipano sono tanti e le persone rispondono sempre con tanto piacere, quindi vediamo che c'è un sacco di gente di partecipazione e tante occasioni di divertimento. Questa è una realtà ricca di negozi ma anche di associazioni di realtà di vario genere, per cui dal circolo e il cas di San Marco la Sella, la parrocchia, ma anche tante associazioni sportive, scuole di ballo, cioè ci sono veramente tante realtà che insieme alla rete commerciale e ai pubblici esercizi sostiene la festa. Sono momenti di aggregazione di identità di un quartiere, si trovano per la strada come avveniva un tempo e quindi è assolutamente positivo perché è un modo per riscoprire anche un'identità sociale, quindi noi volentieri lo organizziamo, d'altra parte sono poche ormai le associazioni che fanno qualche cosa nel sociale, noi anche in questo senso operiamo.